L'amministrazione comunale dopo un lungo e minuzioso lavoro ha messo a punto un nuovo piano di emergenza già deliberato dalla Giunta Seri. La necessità di riformulare quello ancora vigente ma che presto dopo l'approvazione in Consiglio Comunale andrà in pensione è stata dettata dall'esigenza di adeguarlo alle recenti normative, al cambio morfologico ed urbano della città e per contemplare nel piano nuove situazioni di criticità che nel vecchio non erano previste e che quindi non avevano una pianificazione prestabilita come le forti mareggiate, i nubi fragili, gli incendi boschivi e in un ultimo l'inquinamento tra idrocarburi, possibilità non così remota essendo Fano una città di mare con spiagge soggette a possibile inquinamento. Abbiamo inserito all'interno del nuovo piano di emergenza comunale una serie di studi di valutazioni che si sono arrivate dalla Regione. La prima è sicuramente lo studio sulle condizioni limite d'emergenza ovvero per semplificare cosa succede quando accade un disastro, quali sono le vie di fuga, quali sono gli edifici da proteggere, quali sono le vie di comunicazione da preservare. L'altro adeguamento normativo è che abbiamo recepito la microzonizzazione sismica ovvero abbiamo studiato nel dettaglio cosa potrà succedere nel caso di terremoto ai singoli terreni, quello sabbioso piuttosto che quello ghiaioso la collina piuttosto che il mare. Abbiamo simulato degli scenari che abbiamo inserito in questo piano, degli scenari, abbiamo quindi simulato degli eventi e abbiamo anche cercato di dire cosa deve fare le persone coinvolte, i volontari di protezione civile, il comune di Fano ma anche i sindoli cittadini cosa devono fare in caso di questa emergenza e dunque sono degli eventi in cui la macchina comunale, i volontari di protezione civile ma soprattutto tutti i cittadini devono cercare di essere informati. Noi lo metteremo sul sito web, questo piano, la gente lo può studiare, può capire in caso di qualsiasi tipo di evento come si deve comportare, come deve difendere la propria salute, la propria salute fisica ma come deve difendere anche in alcuni casi la propria proprietà privata. Ma come ogni piano d'emergenza che si rispetti è necessario testarlo per smascherare le criticità che solo operativamente si possono manifestare. Per questo la protezione civile e la macchina comunale hanno predisposto a Fano una esercitazione dal 14 al 16 settembre dove nel quartiere del Vallato verrà gestita una vera operazione post sisma. Sì, diciamo che per la prima volta, cioè di solito le nostre esercitazioni sono solo a livello di volontariato la redazione di un campo per un modulo di 250, arrivi sul posto e simuli che dall'altra parte del comune ci sia qualcuno. In realtà in questa esercitazione dall'altra parte c'è il COC attivo dove troviamo il sindaco e tutti i dirigenti del comune di Fano che ricoprono tutte le 11 funzioni quindi sarà per loro, per il COC una esercitazione per posto di comando quindi dovranno risolvere i problemi che gli verranno affrontati in sinergia con il campo laddove piuttosto che le famiglie che sono sfolate verranno inviate già direttamente sul campo perché ci sarà una riunione da parte del comune con la popolazione e chi vorrà aderire potrà entrare già nel campo e vivere la vita in pratica che all'interno del campo tutto quello che succede. Questa è una novità il dipartimento ha colto di buon grado e quindi sarà presente qui anche il dipartimento per appunto testare sempre più di vicino, sempre più reale la cosa, l'emergenza in modo che dia dei risultati. Insieme potremo vedere quali sono anche le difficoltà, quello che chiede il campo al COC e all'amministrazione, quello che l'amministrazione dovrà saprà già quello che gli viene richiesto in un evento reale.